Ciao ragazze, oggi mi trovo nella mia clinica di trucco permanente a Gioia Tauro e sono con la mia splendida dottoressa Mariangela. Benvenuta Mariangela. Grazie. Grazie per essere qui. Allora ragazze, noi vorremmo raccontarvi un po' la storia delle sopracciglia di Mariangela e perché ha deciso di rivolgersi a noi per fare le sue sue sopracciglia. Quindi lascio subito la parola a te, Mariangela. Come mai hai deciso di rivolgerti a noi per fare il metodo? Sì, ero davvero molto stanca delle mie sopracciglia sottilissime e a tratti anche mancanti e stanca anche di dover ricorrere alla matita ogni giorno e quindi sia del tempo che dovevo impiegare ma anche poi il risultato che mi piacesse più di tanto quindi sapevo di dover ricorrere a una soluzione diversa e ci pensavo da un po'. E come hai fatto a trovarci? Poi un bel giorno guardando Instagram, ero sui social, ho visto un tuo annuncio allora poi lì ha catturato tutta la mia attenzione e mi sono soffermata per andare a cercare altre informazioni e poi visionando tanti lavori che avevi fatto, leggendo le recensioni ho preso subito immediatamente un appuntamento. Ne hai sberciato anche sul blog. Assolutamente sì, esatto. Ho approfondito la cosa. Certo, bravo. Quindi la prima cosa documentarsi sempre. E quella è andata subito a buon fine, tanto che ho preso subito l'appuntamento. Bene, com'è stata la diagnosi? Ha soddisfatto le tue aspettative anche successivamente? Come è stato? Allora già dal primo appuntamento, la diagnosi, devo dire che il tutto ha superato le mie aspettative proprio al meglio. Ho incontrato un ambiente gentile, ho incontrato la professionalità, gentilezza, cortesia, simpatia, insomma non potevo aspettarmi nulla di meglio. Tu Francesca sei stata esaustiva, mi hai ascoltato, hai perfettamente capito cosa volessi, cosa desiderassi abbiamo visto dei lavori, insomma ho scelto tecnica, forma e già quindi dal prossimo appuntamento sono uscita da qui soddisfatta e contenta soprattutto. Bene, quindi abbiamo soddisfatto le tue aspettative, consiglieresti anche alle altre donne che hanno la problematica che avevi tu prima, quindi sopracciglia di radate, dipendenza dalla matita. Sì, sì, esatto, consiglio, ho proprio di cuore perché io sono molto molto più felice, mi guardo finalmente allo specchio e sono contenta e quindi lo consiglio vivamente. Le basi ci sono perché sei bellissima. Grazie, grazie, ma tanto è anche il merito tuo. Abbiamo solamente oggi, mi guardo allo specchio e sono veramente molto felice. Bene, Maria Angela, io sono contenta di averti incontrata e buon percorso S.S. S.S. sopracciglia, allora diciamo S.S. sopracciglia. S.S. sopracciglia. Ciao ragazze. Ciao.